I podcast di Radio Lewis non si fermano neanche d'estate, io sono Gregorio Magni e qui con me c'è Mario Benedetto, editorialista del Tempo e titolare di insegnamento in teorie tecniche della comunicazione integrata e dell'audiovisivo, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie, grazie a te, grazie a chi ci ascolterà Gregorio. Allora, mi permetto di darti del tu perché sei stato tra i fondatori di Radio Lewis e sei un collega perché da Radio Lewis non se ne esce mai e oggi ne è appunto la prova. Allora, dicevamo, nel tuo corso di teorie tecniche della comunicazione integrata e dell'audiovisivo, che i ragazzi della triennale in scienze politiche possono scegliere come esame elettivo, cosa devono aspettare i ragazzi? Sarà un esame, un corso pratico, sarà un corso teorico? Insomma, quali saranno i temi che tratterai in questo tuo corso di insegnamento? Giusto Gregorio, bella domanda perché poi è molto importante capire, no? È il momento in cui si studia un po', si vede il titolo, si legge il piano di studi, ecco, capire cosa ci troviamo davanti. Allora, in questo caso ci troviamo davanti un corso dove voglio, in termini, diciamo, non solo e non tanto teorici ma anche molto pratici, far capire come funziona un mondo, che è quello della comunicazione diviso in due grandi pilastri, no? Quello della comunicazione strategica che oggi è integrata e quello dell'audiovisivo che sono un po', no? L'emittente e il ricevente del messaggio della comunicazione globale, diciamo così. Ma soprattutto far capire, ragazzi, come tutta la teoria importante che hanno acquisito nei primi anni si trasforma in pratica in mestieri, quindi come funziona il mestiere della comunicazione corporate, aziendale, istituzionale, quali sono gli strumenti, processi, le figure e, andando sull'audiovisivo, come funziona il mondo dei media, dei nuovi media, da quelli tradizionali a quelle, appunto, radio e tv, fino a tutto il mondo web e social, per capire proprio materialmente, arrivando anche a toccare un mondo creativo come quello del cinema, che è un po' meno esplorato, ma è sempre un mestiere per tanti ragazzi che escono da qui, quindi capire cosa significa fare l'autore, cosa significa fare il collaboratore ai testi, cosa significa sceneggiare, cosa significa iniziare un percorso di regia. Quindi abbraccia sia il mondo manageriale che il mondo creativo con elementi proprio concreti e confronto con i protagonisti, il suo nome è basilare. Appunto, concretamente, la televisione italiana e soprattutto negli ultimi anni ha subito dei profondi cambiamenti ed è diventata più trasversale rispetto ad altri mezzi di comunicazione, basti vedere i social media. Si è passati quindi da una paleotelevisione, da quella che Umberto Eco chiamava paleotelevisione, a una social tv. E il palinzesto italiano, nei fatti, poi, come si sta adattando in questi anni? O meglio, quali sono le tipologie di programmi che meglio si adattano a questo cambiamento, visti, insomma, i recenti sviluppi? Ma guarda, le tipologie di programmi, diciamo, che si adattano meglio, sono in realtà per necessità, devono essere sia quelle di informazione e di intrattenimento. Cioè l'intrattenimento si è fatto molto più interattivo, si è fatto molto più consultabile. Il classico programma di infotainment. Esatto, cioè, esatto. Quella è un po' la risultante, un mix tra questi generi. Noi quindi informazione e intrattenimento abbiamo l'infotainment che in realtà ha assorbito molta della parte di informazione perché sono rimasti TGI e tutto l'infotainment è diventato, diciamo, contaminato dai meccanismi un po' dello spettacolo, infatti lo vediamo molto nei talk. Però io su questo non ho un atteggiamento snobbistico, nel senso che tutto ciò che serve a fare informazione e cultura sono mai funzionali, purché si rispettino dei requisiti e poi sono quelle di attività giornalistica. Però, di fondo, i programmi sono diventati interattivi, creano appunto ingaggio e scambio con il pubblico, quindi non c'è più, lo sappiamo, una sola direzione di comunicazione. E soprattutto è diventato tutto fruibile in un flusso, quindi è questo poi l'interazione. Cioè non esiste, secondo me, più un solo schermo, ma è un grande flusso che attraversa i mezzi. È così che va vissuto il prodotto audiovisivo, sia, e questo è quello che io dico ai ragazzi, sia dal punto di vista di chi lo produce, di chi lo crea, ma anche di chi lo ascolta. Anche perché, infatti, come dici tu, non si guarda più, mi confermi, credo, l'Auditel, i classici dati Auditel, ma si guarda anche un po' l'engagement che si crea in rete. Io credo che un programma, e ti faccio una domanda, tu pensi che un programma possa anche solo chiudere se in rete si creano delle polemiche? Diciamo, il 2022 porta anche a questo, anche se poi ottiene dei dati Auditel molto buoni. Beh, no, questa, diciamo, la chiusura, secondo me, per quanto si dica la TV tradizionale, sta tramontando, in realtà la TV tradizionale ha un altro, tuttora un importante zoccolo di pubblico, cioè le persone la seguono e comunque dà credibilità, cioè la TV è ancora questo. E poi c'è il grande fraintendimento, no, Gregorio? Tante persone dicono, non guardo la TV, non si vede la TV, non si vede lo schermo, il televisore, ma la TV viene fruita, e come se viene fruita? Quindi la TV la guardo sui palmari, sui tablet, sui device, quindi sicuramente la total audience, adesso l'altro giorno hanno stati presentati i palinsesti dei principali editori, Rai, Mediaset, addirittura Mediaset ha presentato un sistema, ho seguito un'attenzione, che parla di una total audience del 95% della popolazione italiana, tra mezzi tradizionali, a proposito di comunicazione integrata e nuovi. Quindi i social si limitano ad essere un di più? Sono importantissimi, un elemento importante, è chiaro che se un programma regge, in termini di audience, anche se lo dici di pubblico, beh, toglierlo da un palinsesto, sicuramente oggi non accade, forse in un futuro accadrà, possiamo parlarle in aula, in aula magari, farci un workshop, un approfondimento, perché pone un tema interessante, secondo me ci vorrà ancora tempo. È un tema che lasciamo appunto, non spoileriamo tutto, sennò poi ragazzi appunto... No, adesso non c'è gusto. Anche perché abbiamo poco tempo, appunto, dicevi, i mezzi di comunicazione, parliamo dei mezzi di comunicazione tradizionali, che negli ultimi anni sono al centro delle polemiche, la televisione ma anche la carta stampata, anche e soprattutto con il Covid, in questi anni, diciamo, adesso via via sta, pare, insomma, comunque perlomeno il dibattito televisivo si sta riducendo, a differenza del contagio, e, diciamo, anche invece con l'invasione russa dell'Ukraine, appunto, si è acceso un dibattito, no? Su chi può e chi non può parlare in televisione. C'è, diciamo, un tema, si è creato un tema su questo. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, c'è il grandissimo, cioè stai ponendo una serie di questioni importantissime. Per chiudere il discorso di prima, quello che dico io è importantissimo vedere, diciamo, tu dici un programma TV, un programma radio, e, per me, il media di cui parliamo e cui associamo un programma è un media di partenza. Dopodiché la comunicazione è un flusso, la programmazione è diventata un flusso, quindi tutto viene pensato per essere integrato e crossmediale, o deve essere, se non è, cioè, è un errore non pensarlo. Quindi, detto ciò, questo significa andare a toccare tutta una serie di ambiti e di pubblici che, rispetto a chi parla nei media, qui veniamo al tuo secondo punto, ha un'importanza determinante, perché sono due criteri a seguire. Uno è quello della competenza, quindi per quello che si dice, l'altro è il criterio, appunto, dell'ascolto e del consenso che uno riesce a riscuotere. Quindi, specialmente sui temi di informazione, questo è molto delicato, perché chiaramente lo spettacolo ti consente di raggiungere un pubblico a prescindere dal contenuto e da alcuni requisiti che deve avere il prodotto giornalistico, ad esempio. Il prodotto giornalistico, però, per sopravvivere, oltre a dire la verità, essere serio, corretto, continente e quant'altro, deve fare pubblico. Quindi, in realtà, chi può parlare, chi ha competenza e chi aiuta per essere funzionale, per dire le cose come stanno, come amo fare, appunto, in generale, anche nel mio corso, serve chi ti fa fare anche ascolto. Il limite è proprio quello del rispetto dei requisiti che un contenitore di informazione, come fate anche voi benissimo qui a radio, e come sapete, deve avere. Quindi c'è una sensibilità di cui tener conto, ma dobbiamo essere sinceri nel dire che nel momento in cui si fa un prodotto audiovisivo, lo si pensa anche perché sia visto da un pubblico. Ecco, sicuramente bisognerebbe tornare un po' più su dei meccanismi che creano ingaggio, che facciano funzionare il prodotto, e quindi tener presente, specialmente nei prodotti informativi ed infotainment, sì il meccanismo, come dire, della spettacolarizzazione, ma dei criteri di competenza importanti, perché spesso sentiamo parlare tante persone che magari hanno poco titolo di questioni anche piuttosto delicate, e le persone che, che se ne dica, ascoltano e seguono i media tradizionali e nuovi. No, anche perché sopra, diciamo, i temi che hanno, diciamo, monopolizzato il dibattito televisivo, ma non solo, diciamo, sono temi di estrema gravità, prima il Covid, poi la guerra, quindi, diciamo, forse si è accutizzato, diciamo, questo fenomeno. E questo punto è anche, si riallaccia all'ultima domanda che ti voglio fare, ovvero, la comunicazione non sempre comunica, ovvero, mi spiego meglio, cioè, nonostante, appunto, il dibattito televisivo, politico, sia attivissimo, no, diciamo, sui giornali, eccetera, però, poi uno va a vedere, dice, i numeri dell'affluenza dell'ultimo referendum, o comunque, diciamo, il referendum forse non è il metro migliore, ma, diciamo, delle ultime elezioni amministrative, è che in Italia si vota sempre meno, e quindi, appunto, c'è un po' uno scollamento tra, uso un po' due parole che sono state anche, diciamo, abusate, se vogliamo, tra il paese reale e i famosi salotti televisivi dei politici, no, nel senso, c'è questo scollamento, diciamo, ormai è evidente, come si può, appunto, risolvere, appunto, questa distanza? Ma sai, secondo me è una questione, per certi versi di comunicazione, mi piace molto la definita tua definizione di comunicazione, che non comunica, ma a volte, quello che dico io, ripeto, in generale, e anche in aula, è far capire che a volte comunicare meno significa anche comunicare meglio, questo è il libro che ha scritto Magna. Quindi sei draghiano su questo? Sì, io su questo sono molto, diciamo, funzionale, per usare una parola che è cara anche ai sociologi, o agli studenti che sono qui dentro, però, ecco, la comunicazione va gestita con cura, in questo caso abbiamo visto che c'è un flusso importante di comunicazione, ma c'è un terzo snodo, tu parlavi, diciamo, di salotti, parliamo, diciamo, di palazzo, di politica, di istituzioni, devono recuperare credibilità. Il tema qui è che la partita non si gioca solo tra cittadino e media, si gioca tra cittadino, media e rappresentante, no? E quindi istituzione. E secondo me è lì, cioè, il dato dell'affluenza è da leggere, sia rispetto, per carità, una comunicazione può essere fatta in modo più mirato, chiaro, tutto è perfettibile, anche dal punto di vista della comunicazione, però la vera responsabilità, secondo me, è sempre su una parola chiave che riguarda la comunicazione, in questo caso nel rapporto con l'istituzione, che è la credibilità e la fiducia. E credo che... Mi permette di introdurre anche il tema della politica, quindi la comunicazione non è politica, forse questo scollamento si crea quando la comunicazione è politica, queste due cose si sovrappongono a quel punto, forse. Quando entra in gioco la politica, che con una serie di promesse, con una serie di programma, in realtà fa comunicazione permanente da campagna elettorale, ma poi, sai, le persone arrivano al momento del voto, della scelta, al momento del, appunto, del paese reale, si confronta con i temi reali, con le soluzioni, con quello che accade. Quando quello che accade, per lungo tempo, è molto diverso da quello che viene annunciato, si crea una crepa nella credibilità e nella fiducia, e quindi ci si distanzia dal momento principe di una democrazia, che è quello del voto, ed è qualcosa che deve far ragionare, sia i comunicatori, sia i cittadini, ma soprattutto sono me chi li rappresenta. Mario Benedetto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, e averci dato questi circa 11 minuti di spoiler, di quello che sarà il tuo corso, in teorie tecniche della comunicazione integrata, e dell'audiovisivo, che, appunto, ricordiamo, potranno scegliere i ragazzi iscritti, nel Dipartimento di Scienze Politiche, al terzo anno. Assolutamente sì. Dunque, grazie mille, è sempre un piacere averti qui. Sono sempre a disposizione per te, per voi, per i ragazzi, anzi, complimenti a voi, fate un grandissimo lavoro, mi avete fatto sentire anche un po', tornare un po' al passato, oggi un po' più giovane, quindi io che sono un boomer ormai, capito? le porte di Radio Lewis sono super aperte per tutti, per tutti. Grazie mille. Grazie a te.